Buono, chiamate Ivan, che ciò parlo? Sì, lo troviamo. 50 interventi in un giorno e la mattinata comincia con nuovi roghi a Roma e provincia. Nella sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Via Genova, le squadre turnano nelle 24 ore. In questo momento quanti incendi ci sono in corso? Siamo impegnati in un intervento per un incendio di attività commerciale presso la Dispoli. Di che proporzioni? No, sembra che l'incendio sia sotto controllo. Per il resto c'è l'ultimazione dell'intervento di Malagrotta, dove siamo ancora impegnati con 25 uomini e 7 mezzi sul posto. E poi c'è il DOS che dirige gli interventi aerei. La sala operativa dispone 11 elicotteri della regione Lazio, più i Canadair del corpo nazionale di Vigili del Fuoco, più 2 Ericsson. In questo momento non sono in azione i mezzi aerei? In questo momento non sono in azione. Cosa bisogna fare per fermare questa piaga degli incendi? È un sistema che va combattuto attraverso un processo di formazione, di educazione anche ambientale e anche di rispetto del territorio in cui ci troviamo. Un nuovo luogo alla Muratella? Sì, anche sabato ha preso e di nuovo si è riacceso in questo momento. E chi vi ha segnalato questo inizio d'incendio? Un utente, un passante che ha anche provato a spegnerlo con dei secchi, ma evidentemente non ce l'ha fatto. Grazie. 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 Grazie.